Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi siamo in compagnia con uno dei nostri stalloni che è il padre di la maggior parte dei nostri cuccioli, è veramente molto piccolino, lui è 22 cm al garese. Di cosa voglio parlare oggi? Di uno dei comandi fondamentali da insegnare al cucciolo, diciamo, per la convivenza, per portarlo fuori, per l'educazione proprio quella di base, ovvero il comando vieni, che poi noi possiamo associare alla parola vieni o al nome del cane. Allora, come possiamo iniziare? Quando abbiamo il cane al guinzaglio, il cucciolo al guinzaglio, lo chiamiamo con il nome che gli abbiamo dato e gli diamo un premio in cibo. A quel punto il cane associerà il comando che noi gli diamo al premio. Noi lo possiamo andare a sciogliere in un posto dove non ci siano troppe distrazioni e tutte le volte vedrete che chiamerete il cane, il cane si avvicinerà a voi e voi lo premierete, in modo che il cane possa cominciare a fare questa associazione, è veramente molto importante e molto utile, diciamo, perché assolutamente il comando vieni e è quello che poi dopo ci permette di sciogliere in tranquillità e in serenità il nostro cucciolo. Non mettetevi a fare delle grosse chiacchierate, prendete delle parole, può essere il nome del cane, può essere la parola vieni e associatela con il premio in cibo e vedrete che il cucciolo già in poche lezioni imparerà a tornare da voi. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao!